portogallo francia 3 5 il riassunto della partita duello emozionante tra portogallo e francia termina 5 3 duello emozionante tra portogallo e francia termina 5 3 ieri sera in un atteso match di calcio si sono affrontate le nazionali di portogallo e francia la partita trasmessa in diretta su rai 1 è terminata con un emozionante 53 a favore della francia la partita si è svolta davanti a un'arena piena e ha suscitato un'onda di entusiasmo tra i tifosi già nella fase iniziale della partita è emerso che entrambe le squadre erano altamente motivate la francia guidata dal tecnico didier de chambre è partita forte ed è andata in vantaggio presto al settemmo minuto teo hernandez ha segnato il primo gol della serata il veloce ala ha sfruttato una disattenzione difensiva del portogallo e ha superato il portiere rui patricio senza difficoltà tuttavia il portogallo non si è lasciato intimidire e ha ribattuto solo pochi minuti dopo joao felix in forma smagliante nelle ultime settimane ha segnato il gol del pareggio al 12 minuto il giovane stella dell'atletico madrid ha una volta di più mostrato il suo grande talento e non ha lasciato scampo al portiere francese mike maignan al 23 minuto la francia è riuscita nuovamente a prendere il comando marcus thuram figlio della leggenda del calcio francese lilian thuram ha segnato dopo un preciso passaggio di kilian mbappe poco prima dell'intervallo la francia addirittura ha aumentato il punteggio a 3-1 con un altro gol di thuram il portogallo sembrava un po insicuro in questa fase della partita e aveva grandi difficoltà ad arrivare alla porta francese dopo la pausa tuttavia il portogallo si è mostrato combattivo e ronaldo ha segnato il gol della rimonuto 52 con un colpo di testa il superstare di manchester united cristiano ronaldo ha dimostrato ancora una volta le sue straordinarie abilità che gli hanno già valso numerosi riconoscimenti ma solo pochi minuti dopo la francia ha ripristinato il vecchio distacco al minuto 57 rafael leao ha segnato dopo una bella combinazione con antoine griezmann portando il punteggio sul 4-2 il portogallo è riuscito a riavvicinarsi al minuto 70 quando leao ha segnato di nuovo questa volta ha mostrato le sue abilità tecniche e ha quasi superato da solo la difesa francese tuttavia la francia ha avuto l'ultima parola e si è assicurata la vittoria con un gol tardivo di kilian mbappé al minuto 85 che ha portato al punteggio finale di 5-3 la partita ha avuto molti momenti salienti ed è stata uno spettacolo vero e proprio per gli spettatori entrambe le squadre hanno mostrato un eccellente calcio offensivo e si sono date battaglia duramente il tecnico francese deschamps si è mostrato soddisfatto della prestazione della sua squadra dopo la partita e ha elogiato in particolare l'efficienza in attacco per il portogallo era importante dopo la partita prendere gli aspetti positivi e concentrarsi sulle sfide future ronaldo e joao felix hanno dimostrato ancora una volta di essere in grado di decidere le partite da soli i fan di entrambe le squadre erano entusiasti delle performance dei propri giocatori e dei colpi di scena del gioco la partita è stata trasmessa in diretta su diversi servizi di streaming che hanno coinvolto molti appassionati di calcio l'incontro tra francia e portogallo era disponibile su varie piattaforme in modo che nessuno dovesse perdere lo scontro avvincente e l'impressionante svolgimento del gioco